Musica Viabilità presentato ieri presso la provincia di Salerno il nuovo piano di investimenti per la messa in sicurezza delle arterie provinciali. Sant'Arsenio, nuovi servizi all'ospedale Santissima Annunziata, presentati ieri. San Pietro Altanagro, approvato il regolamento per il riconoscimento del marchio d'eco e prodotti tipici locali, bandito e il grifosato dalla produzione. Roma, assemblea ordinaria di Federcasse presente alla BCC di Buonabitacolo, confermata la centralità delle BCC a sostegno dei territori. Calcio, tutti i match in programma nel weekend. Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale. La regione Campania cerca siti per ospitare lo stoccaggio di rifiuti in vista del blocco del termovalorizzatore di Acerra. E tra i siti individuati si torna a parlare di Polla. Immediato e secco arriva il no da parte del territorio con il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, che ha già approvato nella giornata di ieri una delibera per dire no ad eventuali trasferimenti di rifiuti sul territorio. Ancor più duro il presidente della comunità montana, Raffaele Accetta, che sottolinea. Si ricordano di noi solo quando devono portare i rifiuti. Abbiamo già dato. Vediamo i dettagli nel servizio. Torna l'emergenza al sito di stoccaggio a Polla a seguito del preannunciato fermo del termovalorizzatore di Acerra per i lavori in programma a partire dal mese di settembre. Per far fronte all'emergenza, la regione Campania è oggi impegnata nella ricerca di nuove aree da adibire a siti di stoccaggio rifiuti. Tra le aree individuate si torna a parlare del comune di Polla, che però ha già fatto sapere di non essere disponibile ad accogliere i rifiuti provenienti dai vari territori provinciali. Posizione ribadita e confermata con forza anche dal presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che ha sottolineato come in termini di stoccaggio rifiuti il Vallo di Diano ha già dato ed ora tocca a quei territori che fino ad ora se ne sono avvantaggiati. Dopo un iniziale sì da parte del comune di Ponte Cagnano che si era detto pronto ad accogliere il sito di stoccaggio rifiuti, è invece arrivata alla delibera di consiglio comunale in cui all'unanimità è stata negata tale eventualità. E' così ripartita la ricerca individuando tra i siti possibili anche il comune di Polla con il sindaco Rocco Giuliano che alla sola eventualità nella serata di ieri ha nuovamente approvato una delibera in cui manifesta il suo assoluto diniego ad accogliere lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla provincia salernitana. Il presidente della comunità montana Raffaele Accetta è stato ancora più duro nella reazione alla notizia, ricordando come il territorio del Vallo di Diano ed in particolare Polla già in passato sono stati chiamati in soccorso alle necessità in tema di rifiuti. E ora è giunto il momento che a contribuire in materia di rifiuti sia chi nel passato ne ha tratto vantaggio. Il presidente Accetta inoltre non perde l'occasione anche per ricordare i torti subiti in passato dagli enti sovracomunali, in particolare quando si è trattato di effettuare ridimensionamenti nei servizi con il Vallo di Diano che è stato sempre il primo a subire i tagli in nome di un'economicità che ha penalizzato proprio i cittadini valdianesi. Non possiamo essere presi in considerazione solo quando si tratta di accogliere rifiuti, dichiara duro Raffaele Accetta. Proprio in materia di rifiuti, peraltro, continua, forse ci si dimentica che i comuni del Vallo di Diano sono stati tra i primi ad adottare il sistema di raccolta differenziata, peraltro anche con ottimi risultati visto che sono tanti gli enti che possono vantare il titolo di comuni ricicloni. Ci sono tante aree che possono ospitare siti di stoccaggio, di sicuro tra queste non c'è il Vallo di Diano. Ed ora cambiamo argomento con la viabilità. 100 milioni di investimenti per la sicurezza sulla viabilità dell'intera provincia di Salerno. Ieri mattina, in conferenza stampa, è stato presentato il nuovo programma di investimenti previsto dall'ente guidato dal presidente Michele Strianese. Sicurezza ed economia nel programma straordinario di investimenti sulla viabilità dell'intera provincia di Salerno hanno presentato a Palazzo Sant'Agostino opere e grandi opere con investimenti complessivi per circa 100 milioni di euro, ma anche lavori di lotta al dissesto idrogeologico, a protezione delle infrastrutture e opere di manutenzione straordinaria diffuse su tutto il territorio per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza stradale. Ne hanno parlato con Marcellato Orgoglio il presidente della provincia strianese ed Antonio Rescigno, consigliere delegato alla viabilità. Si tratta di riprogrammazione di vecchi fondi e 2 milioni e mezzo sono riprogrammazioni di fondi che erano sulla 430, la cilentana che ora è passata all'ANAS, e altri 9 milioni per realizzare tantissimi interventi rilevanti su tutta la provincia. Quindi usufruiamo di una manforte da parte della regione molto consistente. Con il piano di manutenzione del 2019 realizzeremo circa 100 interventi localizzati in tutti i posti, tutte le zone della provincia di Salerno, su tutte le strade che necessitano di manutenzione. Per cui stiamo lavorando su circa 40-50 cantieri già adesso e investiamo nei prossimi mesi circa 100 milioni di euro. Sicuramente per l'economia della provincia di Salerno, con questo piano che ha tutte le opere di grande importanza, come diceva il presidente prima, ha anche il piano straordinario per la messa in sicurezza per gli interventi puntuali di manutenzione, quindi più ordinario che straordinario. Quindi circa 100 cantieri che saranno realizzati con un metodo di valutazione. Ovviamente ci sono tante le strade ancora da intervenire, ma si è dato priorità alle strade che hanno più percorrenze, più incidenti, più traffico sulle stesse. Quindi con questo piano che finalmente riusciamo a dare risposta al territorio, come diceva il presidente, giorni sono in corso i lavori, ma partiranno ancora circa 30 gare di appalto per le manutenzioni. Un'area che è stata divisa, già la provincia era divisa in due zone, la zona 1 e la zona 2, in queste due zone sono state divise in altrettante microzone che consentono interventi puntuali, immediate, ma soprattutto i celeri, evitando la burocrazia dei singoli appalti per singola opera, ma quindi una gara che interessa più interventi contemporaneamente. Ed ora la cronaca. Tre persone di Sala Consilina, di età compresa tra i 43 e i 55 anni, sono state denunciate per furto di acqua potabile dai carabinieri, che hanno anche sequestrato gli impianti abusivi stallati. I militari della stazione di Sala Consilina hanno accertato che in diversi appartamenti e abitazioni, sia del centro storico che della periferia del paese, i tre avevano rotto e spostato il sigillo di piombatura dai cantatori, allacciandosi abusivamente alle condutture. Riempivano così dei grossi contenitori nascosti in nicchie o sotto il suolo. Nel tempo erano anche riuscita ad impossessarsi di diverse centinaia di metri cubi di acqua potabile, utilizzata per alimentare le proprie abitazioni, nonché per l'irrigazione del giardino, per un valore complessivo stimato in circa 4.000 euro. Cambiamo argomento. Ieri i vertici dell'Asl di Salerno e dell'ospedale Santissimo annunziata di Sant'Arsenio hanno presentato i numerosi servizi che sono stati attivati di recente, in via di attivazione per il definitivo rilancio della struttura che nel breve periodo sarà anche interessata dei lavori per svariati milioni di euro. Sarà riconvertito completamente, è stato detto ieri, ora sono presenti un hospice, un buon laboratorio attività per la salute mentale per il contrasto delle dipendenze. Si arricchirà di ulteriori attività con la realizzazione di unità complesse primarie e dell'ospedale di comunità. È un progetto che serve a migliorare il sistema di cure territoriali. A presentarlo ieri sono intervenuti Claudio Mondelli, direttore del distretto sanitario di Sala Consigli in Apolla, Vincenzo D'Amato, subcommissario dell'Asl di Salerno, Donato Pica, sindaco del comune di Sant'Arsenio, Raffaele Sellitto, presidente del Consorzio Nazionale Cooperative Sociosanitarie, Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Vallo di Viano. Vediamo il servizio. Abbiamo illustrato il progetto dell'ospedale di comunità per dare al territorio la possibilità di avere un'altra struttura che è organizzata, dovrebbe contribuire a creare un sistema di cure territoriali e a farsi carico del paziente che non è più abbisognevole di cure ospedaliere, ma neanche può andare a domicilio. Quindi deve essere assistito in una struttura che avrà un modulo di circa 15 posti letto, retto da un infermiere coordinatore, con un infermiere, una SSH24, ma con la responsabilità clinica del medico di base. Quindi questo è un progetto regionale che noi andremo così a mettere in campo. Abbiamo illustrato un po' tutte quante le caratteristiche e serve soprattutto al territorio per far sì che i pazienti diciamo cronici, i pazienti difficili, i pazienti che hanno bisogno di una qualità di salute più appropriata trovano la giusta risposta. Un servizio che sarà messo a disposizione dell'utenza dell'intero distretto sanitario numero 72 e che contribuirà al miglioramento dell'offerta sanitaria, in quanto soprattutto le persone anziane, le persone solo in difficoltà sociale, la cosiddetta cronicità o lungo degenza, riceveranno una risposta adeguata, molto adeguata e qualificata. Per cui unitamente alla struttura specializzata per le dipendenze su alcologia, gioco d'azzardo, all'ospice e alle attività ambulatoriali, io ritengo che in un periodo medio avremo dato una sistemazione, una riconversione in maniera definitiva al presidio di Sant'Arsenio che potrà riacquistare la sua originaria funzione di centralità nei servizi sanitari. Uno dei settori che noi dobbiamo migliorare per quanto riguarda questo progetto di strategie delle aree interne, visto che noi siamo area pilota, è la sanità. Naturalmente non potevamo e non si poteva dedicare grande attenzione a questa struttura ex ospedale di Sant'Arsenio che oggi diventerà, con anche le risorse che arrivano dalla strategia, diventerà un centro polifunzionale molto importante a livello sanitario, soprattutto con l'ospedale di comunità ma anche con altri servizi. Quindi noi riteniamo che questo sia un modo per riabilitare una struttura che negli anni ha avuto un ruolo importante e che oggi avrà un altrettanto ruolo importante. È un giorno importante perché abbiamo potuto lanciare un messaggio. Cambia la società, cambiano i modelli assistenziali, cambia l'organizzazione. La cooperazione o il mondo della cooperativa non poteva restare ferma rispetto a un'evoluzione. La cooperazione che è alle spalle a contribuire al medico di medicina generale, la necessità di poter portare un'assistenza e una presa in carica H24. Da solo il medico ormai non riesce più a poter assistere completamente il paziente. Fatto in organizzazione, nelle nuove organizzazioni AFT e UCCP, immagino che con questo modello si possa dare risposta. E questo che è un ex ospedale sarà riconvertito completamente. Già adesso è una struttura molto attiva del territorio, è qui presente un hospice, struttura intermedia territoriale, è presente un boleambulatorio, sono presenti delle attività di fisio-chinesi-terapia, nonché di salute mentale e dipendenze, con un'importante progettualità che da breve è stata parata dall'Asala Salerno. Si arricchirà di ulteriori attività con la realizzazione di unità complessa di cure primarie e di un ospedale di comunità. Altri due importantissimi anelli della catena di assistenza per garantire la continuità delle cure, l'integrazione, per contrastare soprattutto la cronicità. Il Comune di San Pietro Altanagro ha approvato con delibera di consiglio comunale a seguito di relazione dell'assessore Antonio Pagliarulo il regolamento per la concezione del marchio d'eco, totalmente bandito il glifosato. Anche il Comune di San Pietro Altanagro si dota di un regolamento comunale per la valorizzazione dei prodotti tipici locali. È stato infatti approvato con delibera di consiglio comunale, su relazione presentata dall'assessore Antonio Pagliarulo, il nuovo regolamento per il riconoscimento del marchio d'eco, denominazione comunale d'origine, al fine di promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti tipici della tradizione culinaria locale. Partendo dalla cipolla, che già da tempo è oggetto di azione di valorizzazione e tutela, il regolamento vuole anche saltare altre tipicità del settore agricolo, come il grano, il vino e l'olio, senza precludere l'introduzione di eventuali nuove specialità che possono essere considerate vanto del territorio comunale. Nella stesura del regolamento è stato evidenziato l'impegno del Comune di San Pietro Altanagro a sostenere tutte le iniziative per la valorizzazione del patrimonio gastronomico tradizionale e dei prodotti e a promuovere manifestazioni ed eventi finalizzati proprio alla promozione delle specialità riconosciute con marchio d'eco. Per ottenere il riconoscimento d'eco è necessario però che vengano rispettate specifiche indicazioni elencate nel regolamento. Tra queste indicazioni spicca in maniera significativa e decisa il divieto assoluto di utilizzo di glifosato. A tal proposito il comma 6 dell'articolo 7 del regolamento è molto chiaro specificando come è sempre vietato l'uso di glifosato. Oltre al glifosato il marchio d'eco non potrà essere riconosciuto neanche in caso di produzione avvenuto utilizzando prodotti transgenici, ossia organismi geneticamente modificati. Esprimo soddisfazione per questo ulteriore traguardo, dichiara l'assessore Antonio Pagliarulo. Sarà un utile strumento per promuovere le eccellenze del nostro territorio e l'eccezionale pregio dei nostri prodotti. Un'arma in più per difendere la peculiarità della nostra terra, della nostra cultura e della nostra storia. Il marchio, continua Pagliarulo, certificherà la provenienza dei prodotti che saranno valutati meritevoli da parte di una commissione. La valutazione sarà fatta sulla base di una relazione che dovrà mettere in luce le caratteristiche storiche e tradizionali dei prodotti e tutto questo farà da impulso a nuovi investimenti e soprattutto, conclude, a prendere coscienza delle potenzialità del Vallo di Diano. E si è svolta ieri a Roma l'Assemblea Ordinaria di Federcasse, cui ha partecipato anche la BCC di Buonabitacolo con il Direttore Generale Angelo De Luca e il Presidente Pasquale Gentile, confermato il ruolo fondamentale delle BCC per l'economia dei territori. C'era anche la BCC di Buonabitacolo con il Direttore Generale Angelo De Luca e il Presidente Pasquale Gentile ieri all'Assemblea di Federcasse, in cui il Presidente Augusto Dell'Erba ha presentato un'intensa e dettagliata relazione in vista delle sfide future. Un'Assemblea utile ad evidenziare la necessità di scongiurare il rischio di ingessare il settore bancario tendendo a soffocare le banche locali. La Federazione Nazionale delle 271 BCC ha continuato a mediare e coordinare un processo in cui la politica pare abbia recepito parte delle istanze pervenute dalla base, che oggi rappresenta il 52,8% delle banche italiane ed erogano il 23% del totale dei crediti alle piccole e medie imprese manifatturiere. Il nuovo assetto normativo, secondo Dell'Erba, è equilibrato rispetto alle condizioni di partenza al quadro regolamentare europeo e non è poco, ma ulteriori modifiche possono essere attuate incidendo a Bruxelles. Ci serve una proporzionalità, ha spiegato Dell'Erba, che tenga conto delle finalità imprenditoriali delle BCC, obbligate a perseguire finalità mutualistiche. I gruppi cooperativi servono a renderle ancora più stabili e più efficaci nel fare finanza mutualistica e geocircolare, raccogliendo risparmio in un territorio per trasformarlo in credito a imprese, famiglie e terzo settore. Il presidente di Federcass ha poi parlato della legge di riforma analizzando anche il nuovo sistema di credito cooperativo che nel corso degli anni ha subito comunque una sostanziale modifica, non soltanto con la creazione di due capogruppo, ma anche nel numero delle banche passato da 376 a 271. Resta centrale il ruolo delle BCC utili ai territori, ha commentato il direttore generale della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca a margine dell'Assemblea, lasciando immutato il nostro codice identitario. Le disposizioni di vigilanza poi ne sottolineano quattro caratteristiche esclusive, mutualità, territorialità, democraticità di funzionamento, assenza di scopo di lucro individuale. Oggi siamo davvero un modello di banca alternativa, lo è la nostra BCC che ha saputo mantenere la propria autonomia riconosciuta grazie al lavoro intenso di consolidamento che ci ha portato ad essere una delle banche più solide del panorama nazionale. La situazione economica continua De Luca e la coerente interpretazione della riforma ora ci proiettano ad un'ulteriore crescita anche grazie al nuovo dettame normativo che premia le BCC come la nostra, ossia le banche nelle condizioni ideali per conservare e valorizzare le individualità territoriali. Questo, conclude Angelo De Luca, ci differenzia da altre realtà e ci garantisce un ruolo centrale nello sviluppo futuro che sarà sempre attento al nostro territorio. Andiamo avanti. Lunedì prossimo, 15 aprile, il sindaco del Comune di Ottati, Eduardo Doddato, il Rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, si incontreranno per la sottoscrizione di un accordo quadro che vedrà insieme il Comune di Ottati e l'Unisa per la formazione degli studenti. Il Comune di Ottati ospiterà studenti dell'Università di Salerno in stage formativi. Sarà sottoscritto lunedì prossimo, 15 aprile, l'accordo che vedrà insieme il Comune guidato dal sindaco Eduardo Doddato e l'Università degli Studi di Salerno per l'attuazione di un programma di tirocinio formativo e orientamento curiculare presso l'ente comunale. Ad annunciarlo il sindaco di Ottati, che attraverso il suo profilo Facebook parla dell'appuntamento fissato per lunedì prossimo, quando insieme al Rettore dell'Unisa, Aurelio Tommasetti, sarà sottoscritto l'accordo quadro per la Convenzione di durata triennale rinnovabile che porterà nel piccolo Comune degli Alburni studenti universitari chiamati a svolgere attività formative e qualificanti seguite da tutor. Nella Convenzione si legge come tra i suoi obblighi toccherà al soggetto ospitante, ossia il Comune di Ottati, individuare strutture idonee dove accoglie gli studenti universitari durante i tirocini. Per ciò che concerne l'attività di formazione specifica sarà curata da un tutor individuato dall'Università di Salerno che seguirà i ragazzi nel corso del periodo di tirocinio, che come sottolineato all'interno dello stesso accordo non costituisce rapporto di lavoro. Un accordo che consentirà anche di far conoscere il piccolo Comune degli Alburni a giovani universitari che nel periodo di tirocino avranno la possibilità di apprezzare le peculiarità di Ottati e confrontarsi con i cittadini. Sarà per loro un'importante occasione formativa non soltanto per quello che è l'ambito didattico e curriculare specifico, ma anche per quanto riguarda la persona. Soddisfatto è il sindaco Edoardo Doddato che nell'annunciare la prossima sottoscrizione della Convenzione con l'Università degli Studi di Salerno parla anche di un ulteriore obiettivo raggiunto. Come preannunciato non molto tempo fa, scrive Edoardo Doddato, siamo riusciti a iscrivere Ottati all'Università. Lunedì mi onorerò di sottoscrivere l'accordo insieme al Rettore Aurelio Tommasetti per il racconto della nostra piccola comunità, per ospitare presso il nostro ente studenti universitari per tirocini di formazione ed orientamento curriculare. Cari concittadini, dichiara in conclusione Doddato, siatene orgogliosi, mentre agli studenti dico siatene fieri. A Corletto Monforte parte un progetto per la valorizzazione di un prodotto di altissima qualità e tipico dell'aria. Il progetto prevede una serie di appuntamenti organizzati sotto il titolo di Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza. I dettagli della manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Corletto Monforte saranno illustrati giovedì 18 aprile alle ore 10.30 presso la Sala Marcello Torre della provincia di Salerno. Alla presenza del presidente dell'ente Michele Estrianese, del sindaco di Corletto Monforte Antonio Sicilia e del curatore scientifico del progetto Marco Lamonica. A moderare i lavori sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Il progetto è finanziato con i fondi POC 2014-2020 della Regione Campania, con il patrocinio dell'Unione Europea della Regione Campania e della provincia di Salerno. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie. Restate con noi. Bentrovate la seconda parte del nostro telegiornale. Un convegno per informare che si affaccia al mondo del lavoro. Si svolgerà a buon abitacolo ed è stato organizzato dall'Associazione Fermento. Vediamo i dettagli. Scrivere correttamente un curriculum vitae e prepararsi ad un colloquio di lavoro. Questo è il tema del convegno organizzato dall'Associazione Fermento di Buon Abitacolo, che si svolgerà mercoledì 24 aprile alle ore 17.30 presso il Centro Sociale Cupola. L'evento vuole informare chi si sta affacciando al mondo del lavoro, i giovani, offrendo suggerimenti sulla compilazione di un ottimo curriculum vitae e sullo svolgimento di un colloquio di lavoro. Troppo spesso si arriva ben preparati a questo primo step, voi per l'età, voi per la poca esperienza, e si butta al vento una buona occasione di impiego. Per l'occasione saranno presenti esperti di settore, imprenditori, specialisti nella selezione del personale e rappresentanti di Confindustria. E si parlerà di come presentare la propria formazione e le proprie competenze, di come valorizzare le proprie esperienze professionali e soprattutto degli errori da non commettere. Il primo passo, infatti, quando si cerca lavoro, è proprio la redazione del curriculum. L'invito è rivolto a tutti coloro che sono in cerca di occupazione, laureandi e neolaureati, e in particolare agli studenti frequentanti le classi quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado. A quest'ultimi verrà rilasciato un attestato di partecipazione convertibile in crediti formativi scolastici. L'iscrizione è consigliata e dovrà avvenire entro il 23 aprile. Arriveranno 180 mila euro al comune di Padula da parte della regione Campania. Il finanziamento riguarderà il miglioramento della segnaletica e dell'informazione turistica, ha dichiarato il sindaco di Padula Paolo Imparato. Infrastrutture ricreative, centri di accoglienza e informazione per la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Andiamo avanti. Si chiude oggi anche per gli studenti del liceo artistico riteggiano il ciclo di incontri previsto nell'ambito del progetto cittadinanza e costituzione a scuola, promosso dal comune. Oggi l'incontro con il magistrato Claudia Dalitto. Dopo la chiusura due settimane fa per i ragazzi dell'istituto Sacco di Sant'Arsenio, alla presenza del già presidente della provincia di Salerno, Alfonso Andrea, si è chiuso oggi anche per gli studenti del liceo artistico diteggiano il ciclo di conferenze previsto nell'ambito del progetto cittadinanza e costituzione a scuola, promosso dal comune diteggiano e dall'assessore alla pubblica istruzione Maddalena Chirico. Questa mattina nell'aulamagna del liceo artistico diteggiano i ragazzi hanno incontrato il magistrato Claudia Dalitto e gli avvocati Rocco Pinto e Sebastiano Tanzola che hanno relazionato sul tema ruoli e funzioni del pubblico ministero nella Costituzione e nel giusto processo. Il progetto si concluderà sabato 25 maggio con la simulazione di un processo contemporaneo previsto nel complesso monumentale della Santissima Pietà diteggiano con il coinvolgimento degli alunni del liceo artistico e del Sacco di Sant'Arsenio. È importante che i ragazzi fin da questa età, che forse è quella in cui è più importante capire quelle che sono le garanzie, i principi che hanno ispirato la Costituzione e che governano la vita di tutti. Il mio lavoro, come il lavoro di tante persone che lavorano all'interno delle istituzioni, sia governato effettivamente da delle garanzie e degli indirizzi che sono stati in cui è il frutto di tanti e tanti anni di dura lotta e dure conquiste di civiltà e che hanno portato secondo me a un modello di sistema giudiziario e costituzionale che forse come quello italiano è fra i meglio riusciti, almeno diciamo sulla carta, almeno è estratto, ma proviamo anche a farlo diventare così in concreto. Io spero intanto che il messaggio è un messaggio di curiosità, di interesse e di comprensione, cioè di capire qual è la realtà che vi circonda e soprattutto capire qual è il senso del rispetto delle regole, del perché ci sono determinate regole, cosa significa rispettarle e perché c'è un potere dello Stato che è verificare rispetto di queste regole e quindi renderli partecipi di una società nella quale magari gli mancano tante volte un sacco di informazioni, perché nell'insieme di tante informazioni che forse si hanno, poi mancano quelli che sono i principi fondanti, quelle che sono le ragioni per cui esistono le cose o sono imposti dei doveri o dei divieti. I ragazzi davvero stanno dimostrando di avere tantissimo interesse, anche perché sono facilitati dalla presenza di tantissime personalità del mondo, non soltanto della cultura, ma anche del mondo della magistratura e dell'avvocatura e questo sicuramente fornisce loro delle conoscenze che altrimenti sarebbero state loro negate. Ed è chiaro che noi siamo impegnati davvero nel provare a seguire questi percorsi per dare queste competenze in più anche ai ragazzi capaci poi di poterle sfruttare anche al di fuori del contesto scolastico ovviamente. Anche quest'anno una delegazione di studenti tedeschi giungerà a Sanse il prossimo 2 maggio ospite delle famiglie. Si rinnova quindi il progetto di scambio culturale che va avanti da 13 anni tra Sanse e Kletgau. Anche quest'anno dal 2 al 9 maggio un gruppo di studenti tedeschi sarà ospite della comunità sanzese. Ogni anno da 13 anni si rinnova il progetto di scambio culturale tra Sanse e Kletgau, città gemellate dal 2006, ma che vantano un rapporto di amicizia molto più lungo, che affonda le radici nell'emigrazione degli anni 60 quando i primi sanzesi hanno raggiunto le province del Baden-Butterberg nel sud della Germania. L'ospitalità reciproca di gruppi di studenti a cui è data la possibilità di calarsi per una settimana nella quotidianità di una comunità diversa è diventato un rito a cui non rinunciano. Ogni primavera a maggio studenti di Kletgau e poi ogni autunno ad ottobre ragazzi di Sanse per una settimana vivono l'esperienza di conoscere una realtà nuova, frequentando la scuola locale ospitati dalle famiglie del posto. Uno stimolante percorso formativo di familiarizzazione con una lingua straniera e di sensibilizzazione ai concetti di fratellanza e amicizia, quindi di Europa. Oltre alle normali attività didattiche, studenti e accompagnatori vanno alla scoperta del territorio. Quest'anno visiteranno le grotte e il Museo Mida di Pertosauletta, vivranno un'escursione didattico-educativa presso la costa degli Infreschi e della Masseta a Marina di Camerota con visita al Museo Locale Muvip e successivo giro in barca. Con il gruppo CAI andranno all'inghiottitoio di Vallevona sul Monte Cervati. Infine, per un'intera giornata, saranno a Matera, la capitale europea della cultura 2019. Lo scambio culturale tra i giovani rientra in un progetto molto più ampio che vede impegnate da anni le due amministrazioni di Sanse e Kletgau, indipendentemente dal colore politico, nell'organizzare iniziative per rinnovare il legame di amicizia. È stato ad esempio realizzato il premio ambasciatore tra i popoli e per crescere reciprocamente nel confronto costante con un modello socioculturale diverso. Negli anni sono state anche poste le basi per futuri rapporti commerciali sui prodotti tipici delle due zone e per iniziative di promozione turistica, perché tali idee maturino e diventino con gli anni progetti concreti ritengono necessario partire dai giovani. Anche in quest'ottica va letto lo scambio culturale tra gli studenti portato avanti da 13 anni. Ed ora la pagina sportiva con il calcio, la presentazione dei principali match in programma nel fine settimana. Vediamo. Ancora qualcosa da definire nella regular season. Ovviamente non parliamo del Valdiano in eccellenza né del Buccini in promozione, che saranno impegnati rispettivamente nei play-out e nei play-off. Gli azulgranas la vedranno il 28 aprile contro il Faiano in trasferta, mentre, sempre lo stesso giorno, si giocherà Giffoni 6 Casali San Maurese, match da cui uscirà la sfidante del Volcei per contendersi il satto di categoria. In prima categoria, invece, c'è il sassano calcio in lizza per la vittoria finale del torneo. Mancano quattro giornate alla fine, l'attuale capolista il Velina dista solo un punto. Già oggi pomeriggio il primo appuntamento da non sbagliare, la trasferta contro il Rofrano, un avversario che staziona nei bassi fondi della graduatoria e che dovrebbe superarsi senza affanni, considerando il periodo di grazia dei bancazzurri. Cambia la prospettiva in seconda categoria. Il certosa di Padula, complici mesi difficili, si ritrova imbrigliato nella lotta salvezza due giornate dal termine. La prima finale se la giocherà in casa contro il Cellarum, una buona formazione di metà classifica che non ha più nulla da dare a questa stagione. I Granata dovranno sfruttare al massimo il fattore campo per ottenere la vittoria. Diversa situazione nel girone H, dove il Real Pertosa, già salvo, non ha obiettivi se non quelli di divertirsi e convincere. Avversario di turno, lo Sporting Giffoni in trasferta, con pagina ben più attrezzata che punta i play-off. Grazie a tutti.